il diapason è lo strumento che si vede sempre usare dai direttori di coro anche dai violinisti dagli archi in genere per intonare e per dare in caso degli archi l'intonazione all'a e che poi si riporta per il ciclo delle quinte a tutte le altre le altre corde per il direttore di coro invece serve come punto di riferimento per dare l'intonazione al coro quando deve partire dopo un accordo c'è chi usa anche strumenti come questo che possono cambiare anche nota per dare per mettere in tasca e per poterlo utilizzare per dare le note al coro c'è chi usa uno strumento con il pianoforte un organo o ora vanno di moda anche i telefonini i direttori danno le note con i telefonini ecco il primo esercizio forse da poter fare è da un la cominciare a prendere gli intervalli che abbiamo studiato quindi la se devo fare un tono penso a tanti auguri tanti auguri la si be quadro la provateci